Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili in direzione mare, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Per intervento di riprissino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare. In A1 in direzione Bologna sono chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e il tratto tra il bivio per la variante di Valico e Aglio fino alle 18. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!